Allora osso dice un mi gira, si chiede fa una cosa, si è in piazza mercatale e si è a mangiare le paste, le paste le hanno fresche e si chiede una volta era a Prato, poi che fa? Allora che fa? E mi fa? Allora sono andato a Serraglio, ma non ce n'era Marrocchini mi fa uno, dice vai, vai in Garcetti ce n'era, ce n'era un paio, si chiede sono andato a Garcetti e osso ma non mi gira la macchina, non mi gira E senta, lei quest'anno parteciperà a Firenze Rocchi, cosa vuol dire ai suoi fans? Ecco, io sono venuto a Firenze, mi ha dato per Firenze Rocchi, sono venuto per chi altro per venire a assaggiare il panino e il lampidotto, salsa verde e piccantino e poi la porta, si è buttato un nato, un po' di volta tu me la porti, e poi si fa un bel lavoro, si è a tutti a mangiare le paste a Prato, a Prato da Firenze e perché lì si scende e gira, il sole gira, gli UFO li hanno visti atterrare anche per dire sulla Carvana, nel Monte Morello lo dici, ce n'è pieno, ce n'è pieno, li ho visti, li ho visti io, ce li ho visti Allora ti racconto, la volta sono andato a mangiare le paste, super sesto, fiorentino, allora si arrivo a sesto e osso, mi ricordo osso e io a un certo punto, fuo il che scende e siamo, e vedevo l'Arno, e mi fa uno, guarda, tu sei a sesto, non ci passa l'Arno, non c'è Ah, si andrà bene allora E senta, qual è il suo piatto preferito, cosa di garba ha detto della Toscana, oggi Osborne? Ci racconti un po' le sue passioni Ah, a me mi chiama per dire la pappa e il pomodoro, mi chiama tanto, la pappa e il pomodoro, come la fanno io, per dire non la fa nessuno Poi mi chiama per dire anche la smizzerina, alla quarantina, lì ce la fanno buona Poi per dire, a me mi chiama, io fai tifo per la fiorentina, sono della fiorentina, sono tifoso viola mi chiama andare all'Artemio Franca per vedere la fiorentina Poi mi chiama per dire il cilone, mi chiama tanto per i raccioni, quando feci il cilone Qual è stato il suo concerto preferito, sicuramente Firenze Rock sarà uno dei concerti più belli che farà, ma qual è stato il suo preferito? Allora, che ci ripenso, gli è stato alla sagra, me ne lamento, aspetta se mi ripenso un attimo Alla sagra di Tortella a Vaiano, mi ricordo E ci si mangia bene, c'era molte di gente, per dire, io mi ricordo Poi dopo sbagliastrada, e li sbuca a Prato, non ci interviene una sega, osso Gli hanno fatto tutte le rotonde, tutte le tue tondi, osso Non ci trovo a Prato, preferisco Firenze, abito Poi dopo, mi ricordo, sono andato tutto a mangiare la fettuta a casa di un mio amico In Impruneta, in Impruneta, in Impruneta Sa sopra lì, dove c'è l'inconvento, anche c'è la Certosa, che ci aveva fatto da quelle parti, osso Mi ricordo là, e niente, via, ce l'ho da fare, ce l'ho da andare a pegliare Mi scappa il marrochino, mi va via, se no